Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Gears of War 4 Bene, riprendiamo pure dove ero rimasto caricato, speriamo che sia il punto giusto E vediamo un po' che succede Mamma mia, scusate un attico, va Ok, dove sono? No, sono qui con tutti i quadri, vediamo pure Vediamo che succede Devo buttarmi qua o devo andare là? Ma, non lo so Beh, è uguale Di munizione siamo pieni E' troppo tardi, l'erunzione di vento è qui Resistiamo fino alla torre, lì ci ripareremo Eh sì, certo Sciame, davanti a noi E quando mai Allora, scusinate Vaca, vaca Eh, ma sei struso te Sono a terra Porca miseria, ma forse anche io non riesco mai a fare un cazzo Allora, devo andare di corsa evitandolo Sono ferito Presumo di no Presumo di no Però forse posso fare questo qui Così almeno questi qui non smettono di rompere Sapevo avrebbe funzionato Ecco, infatti facciamo così Per tanti saluti Ci penso io Perfetto Oh, bene, andiamo E' più sapere delle cose, no? Eh, vabbè Vediamo pure Vediamo un po' Quindi devo spender Devo premerci Mi vado a capire Ok Questo è andato Ha funzionato Perfetto L'erunzione è peggiora Dai, saliti da cazzo Per proseguire, dobbiamo con me Va, va, fa culo, va Ci penso io a resistire Eh, sì, ma Io devo fare un sacco di cose Devo caricare Devo guardare Eh, che cazzo Ora sì che sei morto Eh, sì, è morto Scusate, ma Cazzo Delle cose così Proprio Non ci stanno per un cazzo Sto gioco Però, vabbè C'è fatto di niente Allora Andiamo un po' Te, togiti da cazzo Muoviti Ah, dio Ok Madonna, mi ha fatto male Ok, andiamo E adesso devo correre Perché non si è cazzato Se devo correre o no Devo correre o meno Rianimami Eh, che culo però Con tutti i posti Che poteva accadere la roba Mi è caduto addosso Sono venito Venite qui Eh, che culo Eh, vai Sono tanto contento Sono tanto contento Dai Eh, non va Ovviamente non va Ok Scusate, ma Non ho ancora capito Se questa fila Dovevo fare Così a buffo Ti senti meglio? Ma Non lo so Vediamo un po' Io pensavo di dover correre E Attualmente ho messo Oggi Non si capisce un cazzo Ok Si, se ne sti gli animo Così dovrebbe andare Ah, meno male Che ci penserei Ok, questo è morto Vediamo se dove Pensare ad altri Ok Cerchiamo Eh Se non fosse che C'è questa meccanica Di ricaricamento Così Questo gioco Così Fatto in modo così Sarebbe molto meglio Purtroppo non rispecchia Gears Soliti Quindi Ha voluto fare Dei cambiamenti Che non ci azzeccavano Un cazzo Con il sistema vecchio Dei gears Cioè O lo cambi Tutto O Non fare le cacate Insomma Perché queste sono cacate Non mi posso andare qua Dove cazzo devo andare ragazzi Quindi si vede che devo aspettare che muoiono tutti Dai Ho già capito Ma smettete di sparare Che se no non esce Che coglioni Sta Deficienza artificiale Veramente Ridicola Ma proprio Ridicola Ridicola Ovviamente Questi sparano E non esce La torre è poco più avanti Non fermiamoci Eh Come devo fare E io lo faccio Allora Vediamo Qua non si può andare E a me Mi venire da pensare di qua sotto Ah Adesso me lo dai Qualcuno mi aiuta Adesso ci siamo Scusate ragazzi Ma non si capiva un cazzo Prima ha detto che dobbiamo correre e sbrigarci E poi Salta fuori che non dobbiamo correre e sbrigarci Ma dobbiamo solo ammazzarli Eh Parla male il gioco dai L'abbiamo già visto Oh Arrivato lo Stormball Ecco Adesso Adesso devo correre Presumo Oh merda Non fatemi toccare Ovviamente Dobbiamo raggiungere la torre Ecco Va bene È ora di andare Ok Continuate No 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 Scusate ma In mezzo Cioè come fai Ci dimenti a loro Odio Ste cose Così fatte male Proprio non c'è 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 Non fatevi toccare Dobbiamo raggiungere la torre È ora di andare Ok 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 No Continuate Eh ci provo Non è che sia così facile Intutivo eh Voglio dirgelo Ci siamo quasi Ok ci siamo Andiamo Vai Dai Dai forza Tutti qui dentro Dai ma porca miseria Si incanta anche Ok Che cesso La torre crolla Che culo Una volta che dobbiamo andare in un posto Croll Guarda caso Capitolo Sei Che bello No Quattro State tutti bene Si penso di si Capitolo tre Non oggi non so contare Lo storm wall è passato Ma non possiamo più salire C'è un'altra torre di servizio Più avanti Seguitemi Va bene È un'impressione mia O sembra che tutto il pianeta Stia provando a ucciderci Non è una tua impressione Pare che i C o G Incolpino i buchi Nella crosta del pianeta Per il mal tempo Prima erano le macchie solari Poi la distorsione atmosferica Chi cavolo lo sa Oh Uno degli aerei di Ginn È precipitato Vediamo che si salva Cioè In questo gioco È impossibile parlare Parlano sempre loro Cioè È una cosa continua 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 Allora Vediamo un po' Oh Sti marroni penzoloni Qua Altro sciame in arrivo Belli belli Sono Ok Vai No Non volevo far questo Oppressione in corso Sì sì Aspetti un attico No no Allora Due marroni Capito Eh no Bisogna che prima ammazzi quegli altri Perché se no Ovviamente questi sparano come dei dementi E quelli non escono Non è morto Oppressione in corso Ok Ok Andata No 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 dove cazzo Ma non ti mettere a cazzo in culo Ma porca miseria Oppressione in corso Eh Sì sì Miseria Ok Prendiamolo con molta calma Ok Bene Oppressione in corso I miei amici che sparano Non mi puoi sapere Cioè Sì Vabbè C'è questi mezz'ora Hanno sparato Oh ma da dove sei venuto Eh Eri verbi Salutarmi La miseria Guardate voi Dove cazzo è finito È morto Alleluia Hanno fatto qualcosa Non ci credo Miracolo Allora qui Non viene giù Ah è venuto giù Ok Adesso Eh Volevo prendere Il marker Perché adesso sicuramente Arriverà qualcuno Vero Schiaccia Che cazzo è Ah non è morto Allora Adesso vediamoci un po' di munizioni Ok via libera Entriamo in quella torre Abbastanza Il cancello è in cima Posso prendere Ok Ah Questi me li fai prendere Ok 77 Mi possono anche bastare Per il momento Vediamo se riusciamo a correre Un pochino Eh Ce la facciamo Dai Andiamo qua Vediamo che succede Mi serve aiuto Eh ovviamente E quindi lo prendiamo Il marker Che che è servito Prenderlo Se poi lo dobbiamo perdere Non si sa Vabbè Vediamo se mi è rimasto lì Ma dubito Eh infatti Marcos Ho l'impressione che tu sia già stato qui Tanto tempo fa Per una missione ufficiale Dei Ciorgi Non sembra divertente Non lo è stato Dicevo sicuramente Me la dovrei ricordare Ma proprio non me la ricordo Ok Andiamo Ok Vediamo un po' Ok forse abbiamo un problema Dici Porca miseria È completamente infestato Allora lo ripuliamo Un pochino Volvio appena Ma perché si mettono sempre Tra i coglioni Cioè io non capirò mai Questi deficienti artificiali Sì sono un umano Dalla nascita Possibilmente Insomma sì Ecco Sì 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 Ma che cazzo Rianima me Forza Che coglioni Non fa male Dai Ok A meno che non riesco a sparare Sì Sì Problemi Se questi li muoiono Ne arrivano altri Già Attenzione Ciacchino Ciacchino adesso E' questo dopo Fammi ammazzare questi qua Che sono degli scassavetti Di maroni Sattacchini Eccolo qua Ok 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 E vai Dovrei averlo Fatto qualcosa Ritorna nel tuo nido Aspetta Questo è morto Quest'altro è morto Questo adesso Mi penso me Ok Bene Chi è il prossimo Meno male Sono a terra Ma come cazzo è possibile No grazie Eh Vabbè Questi sono kamikaze Qualcosa del genere Sparano troppo Bene Sono bravissimi Dai Oh Giù Ok Mamma mia Che roba Che roba esagerata Vediamo Vediamo Adesso dove possono essere Devo andare là Ho capito Però qua Devo assolutamente Prendermi Possiamo fare un casino Dove siete? Eccoti qua Eccomi qua Eccoci Cannello di controllo Arrivo Arrivo L'ho già visto L'ho già visto Ok Perfettico Scusate Ok Scusate un attimo Ok ci siamo Allora Andiamo a vedere Se riesco E questo Quando l'ho preso in mano Mi sono neanche accorto Porca miseria Scusate Devo prendere un po' di munizioni Aspetta Adesso butta giù sto coso Dai Fammi piacere Allora Le munizioni varie Le voglio prendere Questo aveva fucile a pompa Figuriamoci Se aveva qualcosa di interessante Lancer No Non voglio cambiare Eh Buonanotte Allora prendiamoci sto coso Spero bene Oh perfetto Vero? Dico anch'io Allora Andiamo là Però No Non ti devi mettere Ma lo stronzo che sei Guarda Allora No qui non c'è un cazzo Qui sono tutti morti Qua c'è qualcosa E adesso voglio andarci a vedere Ah ma ci sono Figuriamoci Figuriamoci 80.000 armi Nessuno che mi interessi Vabbè Andiamo pure Dovremmo esserci eh Dopo sto gioco Mi ha deluso parecchio Non è come gli altri gears Ha fatto veramente un pessimo lavoro Non mi piace per niente Però Voglio comunque Sono abbastanza curioso Di vedere come va a finire Quindi sì Allora 63 colpi Quindi qua sono appena venuto E devo andare di sopra Presumo Intanto gli altri sono spariti Quindi sì Andiamo qui di sopra Cazzo mi sono preso un colpo Questo spara le seghe Se non sbaglio Quindi mi servirà proprio molto Questo lancia granate Questo fucile del secchino E questo E bisogna usarlo Ok Beccato Forza entriamo Posso buttarmi Ma quel cazzo mi ha risposto Vabbè Andiamo pure Certo che buttarsi Sarebbe stato molto Più pratico Vabbè Mi diamo un boh Ecco Qui ce la fa No così Non ti buttare lì Che dopo non si stacca più La colla Ok La porta è aperta E adesso Vediamo se riusciamo a usare Quest'arma Che sarebbe molto gradita Poter usare Wow Scommetto che nessuno Mette piede qui dentro Dai tempi della guerra Neanche per recuperare i corpi Dopo la guerra Non ci siamo preoccupati Dai morti Ci siamo occupati Dai vivi Forza Da questa parte Accidenti Quindi io di qui Non vedo un cazzo Non c'è proprio niente Non è servito a un cazzo Vedendo qui Perfetto Sono contento Andiamo giù Munizioni Ma per adesso Per adesso 5,50 Ah sono queste Ok Ecco Ok Va bene Mi seguirono Guardate cosa ho trovato Ho ritrovato Dove sei? Non hai trovato un cazzo Perché sei qui con me E adesso qui qualcuno Uscirà fuori Sicuro Sicuro Lì ci sono delle munizioni E qualcos'altro Ma sicuramente Da qui esce qualcosa Dai E' ovvio No? Va bene Allora andrò Su qua un attimo Scusate Magari devo attivare qualcosa Il trigger Da qualche altra parte Va a capire Munizioni Lancia granate Non sembra ci sia niente Vabbè Speriamo bene Che vi devo dire Andiamo Ok Vai Indietro Io lo sapevo Era ovvio Ma porca Di quella vacca E come lo butto giù questo? Che cazzo No eh Oh no E' quello che cazzo è? Qualsiasi cosa sia Rimettilo nel suo buco Ok Stiamo provando Ok È pronto a sputare Bene Le sputa questo Non so se gli faccia danno Però almeno mi muorga Che miseria Eh in effetti Sta per scoppiare Bene bene dai Aspettate che si apra Ah devo aspettare che si apre Ok No 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 Aspettate che sono qui Mi va gatto Vai Stai scoppiando Ok Sta per scoppiare Ok Allora aspettate che si apre Io sto aspettando Gli sto sparando qua Dai Questo cazzo di salto Caracca Deve aspettare che si apra Ok Io fino adesso ho sparato Perchè Adesso Sono a terra No dai Sei ferito ma niente di grave Eh meno male Stai giù Togliti dal cazzo Sempre davanti stai Ciao ciao Gli ho tirato tanta roba ragazzi Ok bestione ha battuto Bestione Sembrava più una portaerei ambulante Eh Sì Andiamo In effetti Sembrava proprio così eh No Oh l'ho presi Andiamo qua E Ma piove Ah Quindi è lì che andiamo Spero ci sia un ascensore Ehi Marcus Non vieni È preoccupato O ha visto qualcosa O ha sentito qualcosa Ah Fantastico Che bello Eh vabbè Si vede che ha avuto ordini così Va a capire Oppure aveva qualcun altro da salvare Va a capire Forse ce lo dirà Adesso vedremo Beh la storia è bella Non c'è chi dire È bella Mi piace È bella da seguire Ma Gameplay l'hanno modificato Peggiorato tanto Le eruzioni di vento Hanno ridotto male Questa diga Eh Ok Cerchiamo l'ascensore di servizio Saliremo più veloci E così Sei molto a tuo agio Qua dentro A noi estranei Servono le batterie vecchie Ho già saccheggiato Molte centrali C oggi Vedete Questi dialoghi Sono inutili Alla fine del gameplay Non neanche della storia Eh però Stavamo sentiti un attimo Ok Qui Le veniamo le date Vedete Vabbè pazienza Ci ho provato Qui c'è qualcosa Mi sembra una Medaglietta No È un riflesso Perfetto Ok Vabbè pazienza Vediamo pure Ovviamente non so dove andare Di qua Ok Vediamo pure Ecco l'ascensore I collezionabili Sono inutili Eh Devo andare solo qua Ok E qui dove devo andare Perché c'è una scala La scala è un punto Che per il momento Ci è precluso Quindi andiamo Direttamente dove dice lui Tanti saluti È a posto Vai L'anima dell'ascensore 20 piani Però sono tanti Guardate un po' Non c'è corrente Beh Caricando il circuito centrale Dovrebbe azionarsi Il generatore di riserva Ci serve solo una turbina E un modo per Per farla girare Ah beh Facile Forse l'ultima funziona ancora La diga è asciutta Ma forse riusciamo A sfruttare il vento Allora andiamo Dove Lo sanno sempre tutto quanto Eh Ok Dobbiamo sfruttare L'energia del vento Quindi ci sarà un generatore eolico O qualcosa del genere Per sfruttare l'energia eolica Ok Vai Ma qualcosa gira però In effetti Eh Forse è questo Che dobbiamo liberare Che grazie a questo qui Dovrebbe in qualche modo Fare energia Un po' come il munino Non so se avete capito Ok Ecco la nostra turbina Ma purtroppo è bloccata Per questo è integra Ah questa Quindi cosa devo fare Devo andare là La dobbiamo sbloccare ovviamente No Non capisco cosa la blocchi Venite a vedere qui Lo sciame ha ostruito gli ingranaggi Dovremmo aprire un varco Io non vedo un cazzo ragazzi Boh Vabbè Apriamoci sto varco E tanti saluti A me lo fammi vedere dove Ah qui Adesso ci siamo Ok Ah il vento la fa girare Ora si ragiona Ok Torniamo all'ascensore Vabbè è stato facile alla fine Pensavo chissà cosa io Ok Porca miseria Una larva E sta richiamando i suoi amici Che bello Che felicità Ok Vediamo cosa si sa La larva morta Sì ma ci sono anche questi Però oltre la larva eh Bisogna dirlo No no Non ci provare proprio Ok Che cazzo ho sbagliato io stavolta Vediamo un po' Appena è stato Ecco qui Chi è il prossimo? Ok Ah è morto Solo che muore male Quindi Beh questo è morto bene Pronto Perfetto Andiamo Eh Ti togli grazie molto gentilo Se è rimasto vivo Non lo vedo Non lo vedo Vabbè proviamo ad andare avanti Vediamo che succede No no È proprio morto E quindi andiamo all'ascensore Oh Qualcosa di genere Salve Oh merda Sono ovunque Eh me ne sono corto Scusi posso prendere nel piede Eh non posso prendere il gamba lei Fatto fuori Eh in effetti Ok E così Sono più di mia portata Granata Caracca Ok questo ho preso la testa Come l'olio Eh si è un po' No Cavoli Dicevo doveva l'ucciso No è un alto Impossibile che sia così Ho capito Andiamo Ok Stavoli eh Bella cosa Un drone è morto Ok uno è morto Questo Madonna sono troppi Non riesco a capire Chi ho già ucciso Chi gli ho già sparato E chi no Ok Per fortuna sta rimbalendo Piano 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 Ok Bene No 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 Cazzo Questo esplode No Esplode solo quando lo decide lui Ok E' rimasto uno Dai Sta abbastanza bene Scusate che stavo guardando ovunque Invece che qua Ok Via libera Perfetto ragazzi Ci possiamo anche fermare qui Per questo video è tutto Io come al solito Vi invito a lasciare un like e un commento Se vi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi do assoluto la cima Ciao ciao Ciao!